la chiesa poi alla fine è data il diciassettesimo secolo chiesa caldea ma insomma le origini quarto quinto secolo dopo questo perlomeno le cose di basalti antiche adesso se tutto andrà bene andremo al minareto un altro quattro piedi la caratteristica ci si può passare sotto siamo in kurdistan ci sono le scie chimiche nel cielo lo sappiamo il ragazzino mattina ha passato davanti alla telecamera ci siamo passati sotto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti